I sapori e i colori dell'autunno, ripercorrendo quello che sono le tradizioni, quello che è naturalmente la frutta di stagione, il laboratorio del gusto, una serie di elementi che hanno indotto i ragazzi a scoprire ancora di più quello che è il nostro territorio. Sì, esattamente. Lei dice che hanno indotto i ragazzi a scoprire. Molti frutti sono sconosciuti. Io ieri partecipando e visitando la mostra vedevo i frutti del carrubbo, un frutto che ricordo da piccola e molti bambini non riconoscevano questo frutto. Non hanno magari mai visto un albero di carrubbo. Unitamente a tutti gli altri frutti dell'autunno è stato per i bambini un momento particolare, entusiasmante, soprattutto la preparazione che ha coinvolto anche le famiglie. È una cosa a cui noi teniamo tanto, la collaborazione con le famiglie, il coinvolgimento, ma non solo per un aiuto di tipo materiale, proprio per la condivisione del progetto educativo. Il volere riscoprire le nostre tradizioni, i sapori della nostra terra, credo sia un obiettivo principale, non solo per i bambini e la scuola primaria, ma anche per i ragazzi più grandi, perché forse è il caso di ripensare a come costruire il futuro di questi ragazzi, partendo proprio dalla nostra terra, dalle opportunità che ci dà questa terra. Noi alla scuola primaria, così come alla secondaria di primo grado, partiamo da queste piccole cose, che poi piccole non sono. Grazie all'impegno costante dei docenti riusciamo ad entusiasmarli in queste attività. Ed è la pratica laboratoriale che diventerà la strategia educativa più importante per questo settore di scuola e che poi verrà continuata anche nelle scuole di grado superiore. Mi riferisco in particolare all'alternanza scuola-lavoro, che sicuramente sarebbe opportuno fondare su quelle che sono le risorse della nostra terra, in termini non solo di patrimonio agroalimentare, ma anche con la valorizzazione dei beni ambientali e culturali. Il nuovo in questa scuola che realtà ha trovato? Allora, sì, io sono qui da appena due mesi. È una scuola che ho scelto proprio perché sapevo di trovare una bella realtà con un corpo docente animato di tanta buona volontà, pronto a collaborare e a lavorare per la crescita di questi ragazzi. Effettivamente già dopo due mesi ho potuto rilevare la grande professionalità delle persone che mi circondano, dei docenti, sia nelle attività proprie della didattica, ma anche nell'attività di coordinamento, di organizzazione. Devo dire che sono veramente contenta di poter lavorare in questa realtà e quindi cercherò di farlo al meglio delle mie possibilità.